Alan Dershowitz, che rappresentava Jeffrey Epstein, ha detto di sentirsi dispiaciuto per il principe Andrea e di credere che il duca avrebbe vinto la causa civile intentata contro di lui da Virginia Giuffre. L'ex avvocato di Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz, ha accusato la defunta regina Elisabetta II di aver fatto pressioni sul principe Andrea affinché risolvesse un caso di violenza sessuale civile con Virginia Giuffre. Lo ha definito un «terribile errore». Il principe Andrea ha raggiunto un accordo extragiudiziale nel febbraio 2022, evitando di dover testimoniare in un tribunale civile statunitense. Tuttavia, Dershowitz sostiene che il reale avrebbe vinto il caso in tribunale, e sarebbe stato sotto pressione da parte di sua madre affinché commettesse il terribile errore di non andare in tribunale. Virginia Giuffre ha accusato il principe Andrea di aver fatto sesso con lei tre volte dopo aver affermato di essere stata costretta a farlo dal noto molestatore sessuale Jeffrey Epstein e dal suo secondo in comando, Ghislaine Maxwell. Nell'agosto 2021, Giuffre ha citato in giudizio Andrew presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York in una causa civile, accusandolo di violenza sessuale e inflizione intenzionale di disagio emotivo. Il principe Andrew ha strenuamente negato qualsiasi illecito, anche nel suo accordo del 2022, con la signora Giuffre. Dershowitz sostiene che il principe Andrea avrebbe dovuto combattere il caso. Se avesse combattuto quel caso, credo che avrebbe vinto, credo che il caso sarebbe stato archiviato per una serie di motivi, ma lui non voleva sostenere una deposizione, o le persone intorno a lui non volevano farlo. Ha fatto una deposizione. Così ha risolto il caso, ha detto.